segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te faccio una domanda secca professoressa ellis line e giuseppe conte hanno motivo di temere questo improvviso protagonismo indotto cercato non sta a noi giudicare di maurizio landini secondo me no però però non conosco questa situazione interna ma vista da fuori ma molto da fuori mi sembra che sia una costruzione di lana caprina tutta questa discussione sui la su queste posizioni mi sembra che si serva molto di più alle audience varie televisive giornalistiche che non alla realtà dei fatti mi sembra che ci si parli di diciamo così di aria fritta scusate ben massimo fanco non è non è d'accordo però rispetto la distanza che ha la professoressa dei problemi italiani e quindi non dico nulla però adesso è il momento che tu dicevi salutiamo i nostri ospiti salutiamo massimo franco salutiamo il momento che ci siamo potessi sorbinati resta senale